Assessore Cuzzi, allargando il discorso, qualche giorno fa avevate presentato il cartellone del mese di agosto, ieri c'è stata la Notte Bianca degli Sposi e tra qualche giorno ci sarà la Notte Verde e poi tanti appuntamenti, tanti concerti sia nel cuore della città che anche in periferia. Insomma, con pochi soldi avete cercato di tenere destra l'attenzione dei pescaresi e anche dei turisti. Sì, con pochissimi soldi stiamo accendendo le luci sulla città, con un'estate molto divertente, ce n'è per tutti i gusti. In questi giorni stiamo preparando prima delle ferie, parecchie sorprese, una su tutte. Io mi auguro che riusciremo a portare qui a Pescara il premio Tenco con la straordinaria partecipazione di Vecchioni. Quindi è un traguardo importante per la nostra amministrazione, ma poi ci sono state tante belle iniziative come il Pescara Rock, la Notte Bianca, la Notte Verde, l'animazione per quanto riguarda lo stadio del mare, poi tutte queste belle iniziative in quelle che sono state considerate negli anni delle periferie che noi vogliamo rivitalizzare, appunto rendere fertili, pieni di momenti interessanti che aumentano e migliorano la qualità della vita dei nostri residenti.